La vita è fatta di momenti. I momenti sono sguardi che si aprono sull'attesa. Attesa di riabbracciare qualcuno che è cresciuto troppo velocemente. Un ritorno è sempre un grande momento. Porta con sé gioia, ma anche voglia di esserci al massimo. Ci sono momenti di puro delirio, frenetici, in cui non si capisce più niente. Ma per fortuna c'è sempre qualcuno disposto ad aiutare. E finalmente ci sono i momenti veri, dell'accoglienza e della gioia. Quelli degli abbracci e dei sorrisi. Dove ci si sente a casa? I momenti che veramente contano. In questi momenti c'è tutto quello che ti serve per stare bene in compagnia. E il tempo scorre via con leggerezza. Ci sono momenti di tenerezza, momenti dolci, che sembrano perfetti per dare una bella notizia. E cos'è migliore di una sorpresa? Una doppia sorpresa! E' possibile creare momenti straordinari, perché con Eurobrico al tuo fianco è più semplice essere felici.